La Galleria Bertoia di Pordenone ospita fino al 9 dicembre 2018 una mostra internazionale sul futurista Mario Sironi, uno dei più grandi artisti del Novecento. In esposizione 200 opere tra celebri dipinti, grafiche e illustrazioni. La mostra è intitolata Mario Sironi dal futurismo al classicismo 1913-1924. A organizzarla è il Comune di Pordenone con Regione Ferriuli Venezia Giulia, Associazione Mario Sironi ed ERPAC, l'ente regionale per il patrimonio culturale. Fabio Benzi, quali le opere più note e anche più rare di questa esposizione? C'è una serie di paesaggi urbani che sono forse il culmine della creatività sironiana, assolutamente straordinaria. Alcuni non si vedevano da 50 anni, altri erano noti solo da foto, però ci sono anche opere conosciutissime che sono l'architetto per esempio, che è una delle più celebri. I capolavori sono davvero tanti, ci sono dei capolavori futuristi, anche questi spesso mai visti, altre volte molto conosciuti come quelli del Guggenheim. Insomma è una mostra fatta con i materiali più belli e più importanti dell'attività di Sironi di questi dieci anni. A impegnarsi in prima persona per portare Sironi a Pordenone è stato l'assessore alla cultura. Questa è una grande mostra che rende visibilità a tutto quello che è stato fatto di culturale nella nostra città. Una grande mostra di un artista che è l'eccellenza del Novecento, l'eccellenza artistica che si può confrontare con tanti artisti, sia europei ma anche internazionali. Una mostra che in questo momento è unica. Due gli obiettivi delle politiche culturali di Pordenone indicati dal sindaco. Noi dobbiamo agire su due fronti. Uno, quello di rafforzare e custodire il grande patrimonio, il grande tessuto associativo di questa città che assicura festival e manifestazioni iniziative quotidiane, ma anche le grandi iniziative che proiettano all'esterno Pordenone e che consentono di attrarre anche il grande turismo culturale. Questi sono gli obiettivi che stiamo perseguendo e su cui continueremo.